Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della New World Mod Pack Sono sempre Alex Schall e siamo su Minecraft ragazzi Allora sono andato a prendere l'ossidiana che ci serviva Qui sto cuocendo l'oro Abbiamo bisogno dei pistoni I pistoni Un po' di redstone No, due basta ne avanzano Sì, vabbè Domani Il ferro dovrebbe essere qui Perfetto Andiamo qua C'abbiamo la cobblestone Non ce la facciamo No, ce la facciamo Allora facciamo 1, 2, 3 C'è 1, 2, 1, 2 Perfetto Facciamo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Dobbiamo, la project table abbiamo detto che non c'è È una cosa brutta 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 Però l'autocrafting penso di sì Per cui possiamo almeno fare quelle e non ci cadono le cose Vediamo un po' se c'è Autocrafting Autocrafting Ah, almeno l'autocrafting c'è Ok Eccola qui L'autoworkbench qui si chiama Non si chiama più Autocrafting table Beh Facciamo No, questa non la possiamo rompere Perché sennò poi non la possiamo fare Facciamo una crafting Prendiamo del legno Facciamo dei bastoncini Ce ne servono 8 Perfetto Voi non ci servite Facciamo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Solo un cretino Aspettate giusto un secondo ragazzi Che devo rispondere al telefono A fra pochissimo Eccoci nuovo qua ragazzi Perdonatemi per il taglio Allora, prendiamo le wooden gear Facciamo 1, 2, 3, 4 Ci buttiamo questa in mezzo Tu sparisci che non servia un cazzo E la mettiamo Ma sì, qui Perfetto Abbiamo un altro po' di cobblestone Vediamo un po' Sì, a voglia Possiamo un po' di qualcosa Perché Dove siamo un pochino troppo Pieni Allora, per fare l'assembly table Possiamo fare pure una crafting normale Penso Allora, sono 1, 2, 3 e 4 Poi Com'era, così? E il pistone sopra e sotto? Dovrebbe essere così Click-true Ma che cazzo? Ma chi? Da quando funziona in questa maniera? Ma? Che cosa strana L'avete mai visto così voi? Io no Tu da qui sparisci Grazie E mettiamo questa Prendiamo quest'altra E ce la ficchiamo qua Allora Speriamo che adesso In questo qui funzioni Abbiamo detto Boiler qui Ok E questo va bene Questo qui E va bene Questo qui E non va bene Che palle No, mi sa che l'ho sbagliato posto Forse Qual è il problema? Cioè, non mi dire che devo fare la terza No, non è questo quello che ci serve Serepanov Ah, forse ce ne vogliono due Ok Se gliene mettiamo due Forse funziona No Allora ragazzi Ah, questo è per la crafting di steel Per fare l'assembly Tre invece che ci vuole Cioè Questa traincraft E' una rottura Di palle In certi momenti Addirittura Due diamanti Ehm E vabbè I diamanti ci sono Ricontrolliamo Diamanti Sì, ci sono Mi serve però Altri due pezzi di ossidiana Li vado un attimo A prendere e torno A fra poco Eccoci di nuovo qua ragazzi Che cazzo ci fa un pig zombie Qua fuori Muori pig zombie Muori pig zombie Muori Ah, stronzo E' morto anche pig zombie Allora Ne servivano solo due, vero? Non vorrei che Me ne ricordassi male Allora sono uno E due Dobbiamo fare altri due pistoni Dammi la redstone Uno e due Perfetto La cobblestone ce l'ho Beh Allora Cobblestone Ormai Ormai sti pistoni Hanno lotto le scalade Però penso che No, loro no Che con questa mod Se ne andranno proprio A migliaia di pistoni Allora sono uno Uno e due Stiamo per buttare due diamanti Per una fottutissima mod Stronza Stronza Uno, due, tre E quattro E voilà Andiamo un po' Se ce la facciamo A far sto cavolo di trenino idiota Ci abbiamo messo un'eternità Per fare un solo trenino Ci abbiamo buttato materiali assurdi Cioè che poi Potevamo benissimamente farne un altro Però Tanto vale ormai Dove lo mettiamo quest'altro Ma sì Mettiamola qui sopra Speriamo No, adesso mi incazzo Cioè Dove diamine la devo fare Sta cosa? Cioè posso capire Dove diamine si fa Questo diamine di treno? Cioè sto shera Panovo non si può fare Da nessuna parte? Ma andiamola a fare in culo Scegliamone un altro Semplice Adesso basta Ci ha scocciato Allora BR80 Anzi no Facciamo il forney Perfetto Allora Qui abbiamo bisogno Questi qui ce li abbiamo tutti e due Questo qui ce li abbiamo Ci serve un fiore rosso Questo è qui Vediamo un po' come si fanno Questo è qui Ferro e legno Ferro e legno No, non è questo È questo No, nemmeno È questo Ferro E quattro pezzi di legno No, era quattro pezzi di ferro No, com'era Oh mio dio Allora, quattro pezzi di ferro E un pezzo di legno Per cui così Mouse che se ne va a cavoli suoi Perfect Abbiamo fatto questa Poi Che cosa ci serve più Abbiamo deciso di fare il forney Abbiamo detto Un carbone Ce l'abbiamo Questi ce l'abbiamo Dobbiamo fare questo E questo Ok Andiamo a vedere come si fanno Era questa? Andiamo un po' Controlliamo Non mi sembra lei Sì, è lei E l'altra invece L'altro pezzo di cabina E questo? No Andiamo un po' Dove diamine sta? Ok Ce la siamo persi Allora Ricominciamo Vediamo un po' Allora questa qui No Questa qui No Questo qui forse Steel frame Questa qui E' quello là Ok Vediamo un po' Così giusto No Dimentico qualcosa Ah ok Sono tre sotto E due sopra Questo dovrebbe essere Vediamo un po' Ok Sì è lei Ci serve un po' Di ferro Cavolo Io non ne ho Allora Vediamo un po' Se ce l'ho Adesso c'ho lo steel Ma non c'ho il ferro Problem Questo è un vero problem E ragazzi Mi tocca andare un attimo In caverna Ci vediamo fra poco Ragazzi ragazzi Fermi 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 Qui è caduto un meteorite Vediamo un po' Cioè è caduto un meteorite Ma quando? Io non l'ho sentito Cosa strana Vedete ragazzi Possono cadere Quando meno Ve lo aspettate Difatti Io non l'ho manco sentito Peccato che sia caduto Quello normale Abbiamo qualche blocco Vabbè Poi me ne vengo a prendere questi Però che figata Vabbè ragazzi Io torno Cioè vado in caverna Fra poco Eccoci di nuovo qua ragazzi Allora prendiamo il ferro Mi stiamo mettendo a fare Dove dovete Non qui Allora ci serve Com'era? Mi sono dimenticato Ah si Ok 1, 2 e 3 Le pressopate di ferro Wow Allora 1 e 2 Cos'è che non va? Ah si nella workbench dei treni Che sarebbe questa 1 e 2 1, 2 e 3 Ed è questo Me lo dai? Boh Ah poi l'altro era ferro Che è la stessa maniera Soltanto che Qualche ferro in più 1, 2 e 3 4 e 5 E 1, 2 e 3 Perfetto Allora Vediamo se manca qualcosa Ah si La rosellina Vabbè per il momento Ce la prendiamo da qua No vabbè Dov'è una rosa? Una rosa eccola lì Dovrei anche mangiare Perfetto Poi se non mi sbaglio La rosa serve solo a colorarlo Per cui la potremmo fare anche Di un altro colore Allora Penso c'è bisogno di questo O no No credo più di questo Allora Questo qui dove va? Io non me ne ricordo La costruzione Allora Questo sotto E questo sopra Il carbone Mi serve Mi serve il carbone O un carcicolbo? Non lo so Vabbè noi prendiamo il carbone Non si può mai sapere Un carbone Perfetto Faremo il nostro primo trenino Finalmente Sempre che tutto ci vada bene Allora Questo qui va bene Perfetto Questo qui va bene E stiamo a posto Fatemi prendere gli altri pezzi Ci servono queste Due forse Questi Allora Questo in mezzo No dai Che è il problema adesso? Cioè no Non ci credo Perché? Ce ne vogliono due Questo è il problema? No Aspettate Mi sa che sono diversi Questo è giallo Andiamo un po' Questo è grigio qui Quello giallo dov'è? No ma Cioè Io Sto odiando questa cazzo di mod Mi sapevo tre secchi d'acqua E notte Andiamo un secondo a dormire Cioè Ma voi vi rendete conto Che cavolo ci sta facendo combinare Sta cavolo di traincraft È assurdo Andiamo fuori Prendiamo tre secchi d'acqua Tu muori Ma sono uno Sono due No Il secchio ci serve E buttiamo la carne in marcia Vuoi morire? Zombie di merda Comunque Stavamo dicendo Cioè È assurdo Ci sta facendo perdere Un'eternità Solo per fare un cavolo di treno Allora Sempre qui dentro Facciamo Uno Due Tre Quattro Cinque E sei Quindi Poi facciamo uno Due Dove è l'altro secchio? Facciamo a dire che l'ho buttato Mi sto esaurendo ragazzi Dove è il secchio? Eh vabbè Abbiamo perso un secchio Che vi devo dire Andiamo di nuovo sopra Vi va a perdere il tempo Allora Mettiamo questo Ma ce l'ho Vabbè Me lo dai? Grazie Andiamo qui E gli mettiamo due di questi Ok Poi Abbiamo detto Che cosa che manca Il carbone ce l'ho Torniamo lì Dai Su muoviti Lava tank No Questo qui Forni Allora Il tubo Non questo Ma questo Il tubo sopra E No Ok Perché No Qual è il problema? Non è lo stesso Vediamo di trovare l'altro Ah mio dio Questo è quello che abbiamo fatto noi Ce ne dovrebbe essere un altro Che mi sa che si fa con il ferro Per cui E infatti eccolo qui Secondo me era questo Che abbiamo sbagliato Che ho sbagliato Nell'altro treno Non vedere queste varie cose Facciamo questo Vediamo se riusciamo a finirlo Sto cavolo di coso Non ci servi tu Ma ci servi tu È ok Poi Vediamo un po' se lo finiamo Sto coso Allora Carbone Tre di queste Ferro Non dovrebbe mancare Proprio nulla Mettiamo questo Questo qui dentro Andiamo qui Facciamo La rosa qui I due ferri qui Tre rotelle ci vogliono Non due Poi Cosa manca? Il carbone E poi Il boiler Cioè il Questo Il firebox Ammazzatemi Il firebox è diverso Vediamo un po' Dove sta quello normale Mi sa che noi Cioè che io ho sbagliato a fare Ho fatto prima la roba per I treni più avanzati Allora Ma io di firebox mi sa che ne ho visto uno solo però Eccolo qui L'accendino Dobbiamo farlo Eh no Allora facciamo così E così Sempre al solito Al contrario E voilà Dove sta? No Non qui Ma qui Mettiamo questo centrale Bello è che abbiamo fatto tutto questo Però Non abbiamo ancora i binari È bellissima come cosa E voilà Eeeh Dov'è? Cos'è che manca? Adesso ditemi voi Che dia mi ne manca? Perché ho messo tutto Manca qualcosa? Non mi sembra Ora Ora Perché non esce? Dai Cos'è che manca? Controlliamo Due di queste Vediamo Giusto Bacca sempre qualcosa Posiamo tutto il resto della roba E dammi una di questa Beh Adesso Dovrebbe darcelo Quattro? Perché ce ne da quattro? Ah no Ok Perfetto ragazzi Abbiamo fatto il nostro primo treno Finalmente Vediamo un po' Se abbiamo qualche binario Da qualche parte Così ve lo faccio vedere No Non ce l'abbiamo Lo facciamo un secondo Qui abbiamo le bottigline d'olio Eeeh Ci serve del legno Che abbiamo già Perfetto Per fare i track C'è bisogno solo di questo Giusto? Questi ce li abbiamo Mi sa Eeeh Dove sono? Eccoli qui Ci servono Questi Che si fanno Con gli stone slab Perfetto Però mi servono Quattro bottigline d'olio Dove stanno le altre bottigline? Ah Dove le ho messe? Non mi ricordo Mmm Oh mio dio Ho perso le bottigline Ditemi di no Che sb Ah eccole qua Una Eccola qua Facciamo gli stone slab No gli stone slab I wooden slab 6 No ce ne servono 12 No quanti ce ne servono? Boh E facciamone 12 Per il momento Perfetto Ma non mi disse Facciamo 1 2 3 E 4 E voilà Bay 32 Track Adesso vi faccio vedere Anche come funziona Un secondo Vi riprendo il video Farò giusto un attimo Eccoci qua ragazzi Allora Ho fatto giusto una piccola pista Per Cioè pista poi Questo qui Come potete vedere Questo è il nostro primo treno Beh Non è qualcosa di eccezionale A me piace tantissimo Allora Per entrare nel treno Dovete cliccare sulla caldaia Con il destro Se mi ricordo bene Sì infatti Andate qui Cliccate sulla caldaia E entrate nel treno Come potete vedere Se cliccate con la R Vi si aprirà La fornace appunto del treno Questo qui È un treno che va d'acqua Cioè Con lo steam Come potete vedere Sto inserendo l'acqua E poi Come ogni cosa Si Si mette il carbone all'interno Allora Cioè è una figata o no? Allora Rientriamo dentro Premiamo la R Buttiamo il carbone dentro Perché ci sono i miei picconi qua dentro? Come potete vedere Sta bruciando Non so se sentite i rumori Ma è qualcosa di eccezionale Lo alziamo un pochino Come potete vedere Sulla sinistra Si sta riscaldando Cioè È qualcosa di eccezionale Siamo un pochino grandi Però Adesso Premendo con la W Comincerà a camminare Cioè È veramente eccezionale Girando con il mouse Poi decidete Se andare avanti O indietro Cioè Ditemi un po' voi Se non è qualcosa di eccezionale Sentono anche i rumori Come se fosse reale Vedete un po' Se vi piace Poi quando vedete I Quanto andrà veloce Sulle piste lunghe Questa adesso è una stupidaggine Giusto per farvi vedere il treno Era giusto per divertimento Per lo sfizio di aver fatto qualcosa Poi per Sono carino però Dite la verità Sono Voldemort con gli occhiali Ciao Allora Facciamo Stacchiamo un attimo questo Dovete colpire sempre sulla cisterna E si toglierà Ragazzi Un secondo solo Ripendo subito il video Ragazzi Abbiamo registrato abbastanza Sono 22 minuti Sono abbondanti Per cui Vi ho fatto vedere il primo treno Spero vi sia piaciuto Anzi Vi saluto Proprio da dentro il treno Giusto per sfizio Ammettiamo questi Ragnetti Questo zombie rompe le palle Sparisce Aveva perso la testa Fighissimo Dove sta il mio trenino Eccolo qui Mettiamo una bella torcia per terra Perfetto Qui con il nostro primo trenino Ci salutiamo Ci vediamo Nella prossima puntata Dove appunto Svilupperemo altri treni Ci troveremo Quelli elettrici I tram E tutte le varie possibilità Per fare quelli elettrici Però dobbiamo sviluppare Prima l'industria Al craft Ci vediamo Nella prossima puntata Lasciate un mi piace Un commentino Se vi è piaciuto il video Fatemi sapere i vostri consigli Se vorreste vedere Qualche treno in particolare E ci vediamo Nella prossima puntata Ciao a tutti ragazzi